Cambiamo ancora argomento, senza soluzioni la vicenda dello scuolabus per gli alunni di Lupara, costretti ad andare a scuola negli istituti di Casa Calenda con mezzi familiari oppure autobus di linea. Non si chiudono le proteste dei genitori di Lupara che si lamentavano e continuano a lamentarsi del fatto che i propri figli per andare a scuola a Casa Calenda sono costretti o ad essere accompagnati da loro con mezzi propri oppure prendere un autobus di linea insieme ad altri passeggeri e pendolari, che in questo periodo non è il massimo della sicurezza. Il problema non è stato ancora risolto, come ci dice il segretario del SOA, il sindacato operai auto-organizzati Andrea Di Paolo, che sta curando la vertenza per conto dei genitori. Per quanto riguarda invece la battaglia dello scuolabus, abbiamo proceduto con un esposto alla procura, sperando che ha i suoi effetti, perché effettivamente è una vicenda abbastanza complicata di scarica a barile tra le istituzioni, in primis dal sindaco di Lupara. Dopodiché la Regione, timidamente, aveva invitato, diciamo costretti dopo il nostro presidio alla Regione, di vederci la scorsa settimana, effettivamente ha fatto un timido incontro di collegamento solo con qualche genitore, con l'assessore ai trasporti, che ha ribadito sì che vuole risolvere la problematica e ha incaricato addirittura alcuni genitori a vedere di mettere su un servizio navetta, che però dovrebbero pagare le varie parti, comprese i genitori. Buttato così, io non sono d'accordo perché abbiamo chiesto più volte il tavolo istituzionale, queste cose non si possono fare come si dice, come i bambini, parlando o tramite collegamento. Ci vuole un tavolo istituzionale che la Prefettura al momento, secondo me, non si è presa la responsabilità di mettere le parti insieme. E su questo comunque ci batteremo, affinché la Prefettura si muove, infatti non escludo che intanto è rimasto, diciamo, siamo sempre in allerta, quindi lo stato di agitazione è attivo e non escludiamo un prossimo presidio sotto la Prefettura di Campobasso.